allora volevo recuperare un libro che c'ho di jim carrie un bel libro in occasione del fatto che questo mese jim carrie il grande comico americano ha compiuto 60 anni non sono riuscito a trovare questo libro magari in futuro però ho recuperato un altro libro del mitico comico napoletano francesco paolo antoni un libro che mi ero quasi dimenticato di avere ovvero questo libro del 1998 un libro rarissimo che non c'era quasi nessuno che si intitola le maschere e il volto con protagonisti francesco paolo antoni e paola cannatello che era una sua storica collaboratrice nonché stata la sua partner nella vita privata per tanti anni e questo libro raccoglie un'intervista fatta loro due insieme a carlo cautiero che anche l'editore del libro stesso quindi un volume questo diciamo con un'etichetta editoriale indipendente con questo libro fu stampato all'epoca del grande successo di paolo antoni quando esplose negli anni di mai dire gol quindi robertino ho vinto qualche cosa niente niente il nonno multimediale ma tu capisci internet no e allora che parla fa attendere prego e così via i tanti personaggi che fece anche questo bel libro le maschere e il volto non ci sono i monologhi di paolo antoni ma c'è una bella bella chiacchierata fatta da questo cautiero a paolo antoni alla sua compagna la cannatello riguardo proprio il mestiere dell'attore le maschere i personaggi dove l'attore dove sono dove sono le sue maschere insomma un bel libro però raccontato in modo molto leggero è assolutamente una bella cacchierata simpatica io sono uno schizofrenico sano un inquieto un tormentato sano soltanto perché uomo artista perché in me il palcoscenico e la vita di ogni giorno sono un tutt'uno inscindibili o non recito mai perché vivo sempre o non vivo mai perché recito sempre se così non fosse impazzirei ve l'aspettavate tutti questi contenuti filosofici da un grande come paolo antoni ebbene sì che a volte anche i comici possono trasmettere tanti significati un po diciamo sulla nostra condizione umana sui nostri comportamenti sul nostro modo di essere di affrontare la vita e paolo antoni per me è un vero e proprio maestro quindi non solo di comicità ma in generale di vita tra l'altro io lo seguo anche sul suo canale su instagram dove lo vediamo combinarne di tutti i tipi in pare uno degli ultimi video stava lì a fare una live dove c'erano i suoi fan che lo commentavano e lui parlava del problema di un tombino che sentiva da fuori casa sua che ogni volta che passano i camion si sentiva il rumore di questo tombino perché non fissato bene sulla strada insomma paolo antoni è unico paolo antoni forever grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti